Avevano organizzato l'intera filiera, rubavano auto, soprattutto quelle di lusso, alteravano i telai, falsificavano i documenti e poi le mettevano nei mercati esteri, soprattutto in Nord Africa. L'associazione criminale, radicata in Spagna, operava in tutta Europa. Un'importante operazione, portata a termine dalla polizia spagnola, aveva consentito di smantellare l'organizzazione con la cattura dei vari componenti della banda. Uno però era sfuggito all'arresto. Il latitante, un magrebino, aveva una residenza di comodo da una zia che abita a Fossombrone. Di fatto, dopo aver simulato un matrimonio con una italiana, girava in lungo e in largo la penisola e l'Europa per lavoro. I carabinieri di Fossombrone da tempo tenevano sotto osservazione la casa della zia. Prima o poi avrebbe dovuto far ritorno, almeno per sistemare le commissioni burocratiche sulla residenza e sul permesso di soggiorno. E infatti, la tenacia degli uomini dell'arma è stata premiata. Appena il marocchino è arrivato nel comune forsembronese, i militari lo hanno intercettato e sottoposto a controllo. Dalla consultazione della banca dati, hanno avuto la conferma che sul suo conto pendeva un mandato di arresto emesso dall'autorità giudiziaria spagnola per associazione a delinquere dedita al traffico di veicoli rubati. L'uomo, un 26enne, è stato arrestato e in esecuzione del mandato d'arresto europeo è portato nel carcere di Villa Fastigia a Pesaro, in attesa che le autorità italiane concedano l'estradizione in Spagna.